Caro ambasciatore, ti puoi presentare? Sono Massimiliano Mazzanti, ambasciatore d'Italia-Nuganda-Ruande-Borundi, laureato in scienze politiche alla LUIS, ufficiale complemento della marina militare, prima di entrare in carriera diplomatica. La tecnologia al servizio della diplomazia. Un aneddoto. Sappiamo tutti bene quanto la tecnologia abbia rivoluzionato il modo di fare comunicazione e diplomazia pubblica. Il Ministero degli Esteri ha saputo stare bene al passo a quei tempi, sviluppando una specifica direzione generale, quella della diplomazia pubblica e culturale, che mette assieme tutti gli strumenti tecnologici e di comunicazione per declinare al meglio il nostro soft power. Come aneddoto devo dire che anche in Uganda-Ruande-Borundi, nel cuore dei grandi laghi, in Africa orientale, i giovani influencer e blogger sono diventati, tramite la tecnologia, uno strumento indispensabile per poter proiettare al meglio l'immagine del nostro paese. Questo è il motivo per cui coinvolgiamo ogni volta giovani influencer e blogger noti in tutti gli eventi che hanno una particolare rilevanza in termini di immagine dell'ambasciata e sono loro a fungere da moltiplicatore. Quindi li abbiamo invitati, faccio un esempio ovviamente, alla giornata del design italiano, ovviamente alla settimana della cucina della cultura italiana e della lingua e infine alla ricorrenza del 2 giugno, la festa nazionale. Hanno loro la capacità e la giovane età per mettere insieme un nuovo modo di fare comunicazione che consente all'ambasciata di svecchiarsi, di mostrare sostanzialmente un nuovo volto e proiettare l'immagine più moderna ed efficace in termini di comunicazione del nostro paese.